musica 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 Alissa e Costine musica perché siamo in gita il 15 sì, perché siamo in gita il 15 perciò abbiamo deciso di anticipare un attimo i 100 giorni per noi se no non potevamo avere questa esperienza musica musica secondo me è importante perché è una giornata in cui si sta insieme in cui ci si diverte oppure si crea quel collegamento con la classe oppure in generale e anche perché abbiamo un collegamento più con la religione anche per questo musica musica fare in un gruppo con tante persone ti da la possibilità di conoscere persone nuove anche però stare con poche persone ti crea un collegamento un po' più stretto con la classe se anche con le persone che sono più presenti ciò penso io penso in questo modo musica 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 è un'esperienza sicuramente importante poi è una tradizione quindi per me si deve venire musica 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 va a port Groot musica acento musica davvero Grazie a tutti.